Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video E soprattutto Gianlufaire oggi Siamo qui su un video un po' particolare Infatti vedete questa schermata Ma la cosa più importante è questa Ragazzi siamo finalmente arrivati 100 iscritti Anzi 100 di voi che si sono iscritti A un canale di un idiota come me Ma questo non lo concepisco ancora Comunque Ragazzi questo video è velocissimo Fatto proprio malissimo col cellulare Intanto come potete vedere 100 iscritti 1300 visualizzazioni Ragazzi arriverà sia uno speciale Naturalmente per i 100 iscritti Magari non ora ma in futuro E uno speciale sia per le 1000 Che penso che quando farò lo speciale saranno 2000 visualizzazioni Comunque ragazzi volevo dire anche che Come potete vedere L'ultimo video quello che ho fatto Questo gioco di merda Ho provato un video così a caso Vi è piaciuto veramente tanto Ora vi faccio vedere anche che avete commentato In 65 ragazzi 65 commenti Quindi ragazzi Qui da Gianlufer è tutto Anzi prima di chiudere il video Vi vorrei dare qualche news Sono in vacanza Penso l'abbiate intuito Sono in vacanza Non posso caricare i video Uscirà questo vlog velocissimo Ora devo anche andare a cena Quindi Devo correre Sono qui in Calabria Mare Insomma non faccio veramente nulla Comunque ragazzi Usciranno pochissimi video Forse una settimana Neanche Comunque Qui da Gianlufer è tutto Noi ci si becca Con un prossimo video Noi ci si becca